Non dirgli che te l'ho detto io, ma ero sicuro che Sam sarebbe andato subito lì. Tutta la roba che scotta a Malta passa da quel palazzo. Era la base dell'intera operazione di Cobin, che l'aveva trasformato in una fortezza. Il che, a essere onesti, è già un buon punto di partenza. Ed era comunque prima che la riempisse di tizi nervosi dotati di armi automatiche. Ma Sam sapeva che Cobin era lì dentro e che poteva sapere qualcosa riguardo a quanto era successo a sua figlia. Quindi Sam ci sarebbe entrato, a ogni costo. Spesso. Cosa c'è? Cosa? Ho mancato Fischer al mercato. Non hai visto la nipa del... Roba per copi. Anzi, come ci sarò caramelle. Forse vuole un altro sapore. Avanti, avanti. Prima finiamo di caricarle, prima le portiamo agli americani all'aeroporto. Eh? Guardiamo. Che ci può fare? Mamma mia, dove... Eh, infatti. Sai cosa c'è nella cassa grande? Eh? Merda! Non so come tu sia arrivato fino a qui Fischer, ma non andrai oltre. Ma non potrai fare nient'altro. Non riuscirai a toccarmi, nemmeno con un dito. Capito? E sai perché? Perché sei già morto! Mi hai sentito? Morto! Piglia di puttana! Perciò se vuoi scappare, ti lascerò un po' di contagio. Se invece ti arrivi avanti, ti aspetto. Perciò se vuoi scappare, ti lascerò un po' di contagio, ti lascerò un po' di contagio, ti lascerò un po' di contagio. Allora, disparate! Che cazzo di domanda sarebbe questa? Sospettate! Avanzatelo! Perché non ti senti maledetta? Non ti prenderai! Non hai niente! Capito? Niente! Fischer, brutto pezzo di merda! Muovi, bastardo! Muori! Non sei a loro cittroietile, vero? Henry Cohen, stavi dicendo qualcosa su mia figlia? Oddio! No! Volevo solo provocarti, amico! Non dicevo sul serio! Giuro che non dicevo sul serio! Allora, rimedia! Dimmi perché l'hai uccisa! Non posso! Non ti resta che uccidermi! Era solo lavoro! Mi hanno dato una foto e chiesto di trovare un cadavere! Tutto qui, uno stupido lavoro! Chi te l'ha chiesto? Dimmi perché lavoravi! Non posso dirlo! Lavoro ancora per loro! Se parlo mi ammazzano! Non è di loro che devi preoccuparti adesso! Non capisci, Fisher! Sono più in alto di te! Sono più in alto di me! Non capisci, mi hanno avvisato nel tuo arrivo! Non capisci, non capisci, non capisci, non capisci! Dai, calmo! Domando qui, Ghost Oak Uno! Abbiamo catturato Panther e stiamo rientrando alla base! Ok, Grimm! Ti darò il retta! Ma sei una trappola! Non è di sì! Non è di sì!